Mamma mia che disai, iniziamo malissimo Luca, questa era la domanda soft per calibrare, per dire. Ti è mai capitato anche solo una volta nella tua vita di essere stata un po' gelosa di Lisa? Sì. Ma ragazzi, ma cosa cazzo fate voi nelle vostre giornate? Ma chiamate e basta! Da quando ci siamo messi insieme a Ottobre mi hai mai tradito? Mai. La tana del frerito, oh oh oh. Ciao preterigno. Ragazzi benvenuti in questa nuova live serale, sono le 22, è quasi ora di andare a dormire, soprattutto per voi che avete 12 anni che guardate. Ma oggi siamo qua per fare un episodio incredibile della Macchina della Verità, il penultimo episodio, il terzo episodio. E oggi abbiamo finalmente una coppia incredibile del mondo del web, che sono Luca Campolunghi e Alice Muzza. E io do subito benvenuto a Luca Campolunghi, che ci siede qua. Ciao Lucone, come stai? Ciao ragazzoni, bene? Sto bene, sto bene dai. Meno male, meno male. E chi ti ammazza, come direbbe il mio nonno. Per fortuna sto bene. Sì, sì, sì. E la cosa molto divertente è che Alice si siederà dietro di Luca, quindi noi vedremo tutte le espressività di Alice sulle risposte di Luca. Quindi sarà anche un po' una seconda Macchina della Verità, perché magari se sai che dice una cazzata, lei fa la falsa come per dire, sta dicendo una cazzata. Madonna, c'è qui dietro. Eh sì, abbiamo due macchine della verità oggi. Ci siamo messi in questo modo. E quindi dobbiamo benvenuto ad Alice, la Muzzolona. Avanti. Allora, Luca, benvenuto in questo format. Io spero tu sia pronto, sei agitato? Dipende, non lo so. Ora no, dipende dalle domande. Ok. Pensi che ci siano domande che ti potrebbero fottere? No, fottere no, però qualche domanda che magari mi metta a disagio. Ok, ok. Luca, iniziamo subito parlando un po' della tua carriera su TikTok. Ok. Hai postato molti video sui social dove venivi ritratto all'interno di un pandino. Ok. È vero? Sì. Ok. Ti piaceva fare questi video sul pandino? Sì, dai, inizialmente sì. Hai fatto video con un po' di ragazze su questo pandino? Abbastanza. Ok. La domanda che ti faccio è... Pensi di essere finito a letto con più di cinque ragazze che sono state su quel pandino? Alife, scusa? Sì. Madonna mia, c'è una macchina di sperma. Cosa cazzo è diventato quel pandino? Ma dentro il pandino? Poi la dice, oh, sta piangendo, mamma mia, che disai. Non voglio vedere. Iniziamo malissimo, Luca. Questa era la domanda soft per calibrare, per dire. Vabbè, siamo sempre nell'ambito pandino, no? Ok. Dove c'è un sacco di ragazze che hanno partecipato a questo pandino. C'è una ragazza particolare che mi viene in mente, che penso tu conosca. Parliamo di Giulia Salemi. Ti ricordi di questo nome? Sì. Ok. Ti manca come persona? Nella tua vita? No, mancare no. Ok. Eh? Non rifacciamo la questa domanda, va bene. Dimmi tu, ok? Ti manca come persona, Giulia? C'è indifferente, nel senso, se la vedo bene, se non la vedo bene. Non ti capita mai di soffermarti a pensarla? No, no, no. Vuol dire no? Vuol dire che non è vero che non so. Vuol dire che in realtà ti è capitato di pensarci. Ma, no. Per niente. Vabbè. C'è mai stato qualcosa di particolare fra voi? No. Cosa abbiamo? Anche questo. Vabbè. No, io ho risposto. Non vuoi, prova a pensare, perché comunque qualcosa di particolare vuol dire anche, boh, può essere scattato qualcosa, non per forza che siete finiti a letto insieme, Dio Bono, ma dico anche... Ma, minimo, cioè, non è successo. Ah, ok, vabbè, allora è successo qualcosa. Sì, vabbè, ma... Cazzo. Vabbè. Luca, molte volte hai affermato di non aver mai bevuto alcol o fumato sigarette in vita tua. È davvero così, eh? Mai provato nemmeno ad accendere una sigaretta, ma nemmeno un arghile, paf, sigaretta elettrona, zero. E alcol ho assaggiato un drink in discoteca, ma ti parlo di, non so, c'è proprio il drink omaggio che ti danno all'ingresso. Ok. Basta. Vabbè, mi sembro abbastanza sincero. Vabbè, poi qui c'ho anche il vigile. Ok. Parliamo d'amore. In questo momento tu pensi di essere felice? Tantissimo. Ok. Mi piace talmente tanto come risposta che non voglio neanche vedere la macchina. Spesso, Luca, dalle cose che si vedono dai social, ma insomma anche da come ti esponi, da come mi vedo anch'io, no? Ti definisci comunque innamorato in questo momento? Sì. Io ti chiedo, lo sei mai stato con altre ragazze? Sì. Hai mai provato un amore forte tanto quanto quello che provi per Alice? No. No, no, in paragonabile. C'è stato il primo amore, c'è quello con Alice, proprio amore differente. Wow. Felice, dice, sta piangendo. Non vedo la sua, devo riguardarmi. Ah, gli occhi lucidi. Devo riguardarmi il VOD dopo. Torniamo a una tua ex relazione, con Alessandra, I'm white su TikTok. Sì. Mi confermi che siete stati assieme? Sì. Eri innamorato di lei? Mi piaceva, cioè, ci stavo bene insieme, ma innamorato, sapendo adesso cosa vuol dire essere innamorati, ti dico di no. Cioè, ci stavo bene insieme. Luca, ti chiedo, i tuoi amici si contano sulle dita di una mano o di più? Si contano sulle dita di una mano. Credi nell'amicizia? Assolutamente sì, perché il mio miglior amico, cioè, si è cresciuti insieme ed è tuttora il mio miglior amico, quindi, assolutamente. Parliamo di lavoro. Tu in questo momento lavori con Stardust, giusto? Sì. Ti piace come realtà? Innamorato. Io lo dico sempre, cioè, fino alla fine, cioè, sarò sempre con Stardust perché so quello che ha fatto Stardust per me. E cosa mi sta facendo fare Stardust. Ci sono mai stati componenti di Stardust che ti stavano antipatici? Ma antipatici no. Però magari qualcuno che non mi andava a genio, che sì, ma antipatici... No, no, che proprio dici minchia, ma perché l'han preso questo? No, 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 allora no. Ma sono con nessuno. No, no, giuro, cioè, proprio con nessuno... Dai, figa. Cosa abbiamo? Ma no, ma perché io sono pace, amore... Cioè, è veramente dura che una persona mi... O mi fai un torto grave, se no sono tranquillissimo. Quindi non è mai finita a botte con qualcuno? Non ho mai fatto a botte in vita mia, quindi... Recentemente, Luca, hai realizzato un TikTok. Dove facevi una sorta di lip sync, corretto? Sì. Stiamo parlando del video, quello in orizzontale, con i capelli lunghi. Bene. Ti ricordi quel video? Sì, 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 sì. Ti sei pentito di averlo caricato? Ma sai che... Cioè, alla fine, cioè, quel video lì, ma sono d'accordo che è... È nato, cioè, ridete... Che poi, soprattutto lei, mi ha detto di non pubblicarlo. Mi chi ascolta la sta cristiana. Cioè, era un'autopresa per il culo. Cioè, nel senso, alla fine, era ovvio che c'era il televisore, il phone, il capello lungo. Cioè, era un'autopresa... Però eri molto... Cioè, sembrava che proprio ci credevi tanto in quel TikTok. Cioè, eri proprio... Non è che eri... Non so come dire. Cioè, sembrava proprio... No, no, è vero. Ma infatti... Perché poi l'ho messo due volte. Cioè, due ne ho messo. E se si fatti... Non bastava uno. Le ho messi due. Ti hanno dato fastidio le parodie che hanno fatto su quel TikTok? Zero. Zero. Non frega niente di quello che fa la gente su di me. Cosa abbiamo? Vabbè, anche a me non avrebbero... No, ma... Anche perché c'è... Nel senso, lo sai, le persone esposte sui social, cioè, se stanno ad ascoltare le critiche o che... Certo. Psicologicamente ti affossi. Certo. Hai mai finto un'amicizia con qualcuno solo perché ti tornava comodo per fare più numeri sui social? No, amicizia no. Magari che cercavo magari quella persona, di vedere quella persona per fare... Qualcosa. Visualizzazione. Ma perché io lo metto, cioè, l'ho detto anche pubblicamente, cioè, all'inizio, cioè, ero veramente ammaliato dai numeri, così. Poi, cioè, crescendo così ho capito che non me ne frega niente. Crescendo da quanto, secondo te? Dall'anno scorso. Da quando... Dall'anno scorso, più o meno. E sai che io sono assolutamente d'accordo con te? Perché l'impressione che mi avevi dato l'anno scorso, quando avevamo fatto l'ave assieme a casa mia, l'impressione che mi ero fatto io, era effettivamente che nei discorsi che mi facevi c'era tanto attaccamento a questa cosa. Quindi mi fa piacere che sei cambiato e sei cresciuto da questo punto di vista. No, 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 ma è vero. Ma penso che si vede anche da quello che faccio sui social. Nella tua vita, Luca, domanda importante, dimmi quando posso farla, hai mai avuto un rapporto sessuale a tre? Posso guardare Alice. Alice per ora ha tipo i denti in fuori quando eri immobile. Era uscito in una clip, che è capitato una volta, ma... Due uomini? Tre uomini? No, 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 due femmine. Ah, due femmine? No, con un altro uomo non riuscirei male. Cioè, nel senso, se vedo un altro uomo nudo di fianco a me non ce la farei male. Anche io che mi metto a fare spadate. Guarda, Luca, tu hai vinto tutto. I protagonisti di questa cosa tre, le protagoniste, sono ragazze conosciute sui social? No. No, mi sento a ritorno. Io non lo so, quindi... Cos'è che ha be' a riso, boh? Ok, vabbè, immaginato. Di recente tu hai caricato, portando questa domanda, un TikTok. Innanzitutto parto con una domanda così. Volevo chiederti se davvero hai avuto i fantasmi di Simoncelli. Ok. Ti faccio questa domanda. Hai fatto appunto questo TikTok, che è andato molto virale, dove appunto venivi ritratto tu in lacrime, disperato, perché dopo la caduta di Bagnaia dalla moto, appunto, dicevi che avevi avuto i fantasmi di Simoncelli, che ricordiamo essere un motociclista, si dice. Motociclista, appunto, purtroppo deceduto durante una gara. Io ti faccio questa domanda. Pensi di avere un po' esagerato la tua reazione per arrivare un pochino di più alla gente, o letteralmente quella è davvero la tua reazione a quell'evento? Assolutamente no, perché quel video, Alice, non l'ho mai rivisto, perché quando solo lei magari lo rimetteva a che mi veniva da piangere. Cioè, se io ripenso ancora a quell'episodio, se tu mi fai vedere, mi viene il magone. Ma ti vedo un po'... Mi viene da piangere davvero, mi viene il magone. Allora, parliamo un attimo di Alice, che è lì dietro. Molto spesso su social dite che siete molto bravi a gestirvi, visto che voi convivete, Siete molto bravi a gestirvi i compiti a caso, ovvero ognuno fa un po', cioè fa un po' le sue cose, giusto? Sì. Confermi? Mi puoi gentilmente confermare che l'unico ruolo di Alice è stare in cucina e lavare le tue mutande con la strisciata? No, no. No, dai. Ma dove andremo a finire, ragazzi? Cioè, lei non è adatta alla... No, no, effettivamente cucina lei. No, no, però anch'io faccio, dai. Cucini? No, no, non cucino. Non cucino, ma per esempio, c'è il fatto che io non sono mai in casa. Chissà cosa fai fuori da casa. Insomma, lo capiremo dopo. Litigate spesso, tu Alice? Mai? Quasi mai. Chi ha ragione quando litigate? Ma tendenzialmente io. Ok. Luca, Alan merita il pallone d'oro? No. Secondo me lo deve vincere Messi. Cioè, per quanto Alan sia la mia ispirazione, così, io sono dell'idea che finché Messi gioca a calcio. Sono curioso, perché secondo me tu pensi che Alan lo merita? No, no, no. Per me Messi, col mondiale che ha fatto, finisce la carriera. Cioè, se lo giocano, però il mondiale che ha fatto Messi è qualcosa di anormale. Qualunque squadra dal 2000 in poi che ha vinto il mondiale, l'avrebbe vinto senza la propria stella. L'Argentina senza Messi nel 2022 non passava neanche il girono. Ok. Ti faccio questa altra domanda. Considerando tutta la loro carriera, quindi non adesso, momentanamente, di sceglierne uno. Messi o Ronaldo? Beh, c'ho Messi tatuato sul polpaccio. Ma c'è qualcosa che di Ronaldo riconosci superiore a Messi? Stiamo parlando dei due got. Cioè, io sono, amando il calcio, io amo entrambi. Cioè, io non sono team Messi, Ronaldo, viceversa. Riconosci entrambi come... Messi è il mio preferito, ma amo e stimo Ronaldo in una maniera... Cioè, penso sia l'atleta più grande della storia, uno degli atleti più grandi della storia. Come disciplina, impegno, cioè, impressionante. Luca, torniamo sul discorso amore. Bello sto switch. Pensi che Alice stia con te perché tu sei conosciuto? Assolutamente no. Ti sei mai posto questa domanda? Che lei magari... No, perché la conosco bene, lei anzi preferirebbe che non facessi parte di questo mondo. Cos'è? Ok. Ti piacciono i contenuti che porto? In generale ti piace quello che faccio su internet? Eh, vedi? Perché ti ho detto ultimamente. Eh no, però dopo tocca su senza ultimamente. E quindi rimango sul sì. Altra prossima domanda importante. Dico come ci sei. Lo toco. C'è qualcuno? Basta amore. Ma io non lo sento, non lo sento lui ma non lo sento proprio parlare. È vivo? Ho capito. Posso fare la domanda? Sì. Ti sono simpatico Luca? Sì. Ti sono simpatico? Ti sono simpatico? Ti sono simpatico? Ti sono simpatico? Sì, dai. Pensi di essere più forte di fratino a calcio? Bestia, che domanda oh! Allora, è difficile rispondere per il fatto che io faccio proprio centravanti numero nove, lui figli è tuttocampista, tre quartiere. Però? Cioè dipende cosa serve. Mi risponde, tanto so che stai pensando già la risposta. No. Cosa abbiamo? No, non penso di essere più forte di fratino. Cioè secondo me siamo due giocatori che ci completiamo. Ma avete mai fatto il pallone d'oro 1v1? Voi due? Io contro di lui mai. Cazzo. Luca. La terza domanda è quella. Luca, ti piace fare sesso con Alice? Sì. Prima di venire qua avete fatto sesso? No. Quella che puoi definire, anzi quello che puoi definire il rapporto sessuale più bello della tua vita, l'hai vissuto con lei? No zio, non ti prego. Non fate come... No, no, so tutto. Sta cosa è bello perché lei lo sa. E una volta nella vita mi è capitata sta ragazza dell'est, cipriota, che mi ha fatto fare robe che io non avrei nemmeno pensato. Ad esempio? Eh, non lo so. Dimmi qualcosa di assurdo, che è stata capottata, che è stata capottata, che è stato il cazzo all'incontrario. Che cosa ha fatto? Roba simili. Le robe simili. La trottola infernale. E lei girava, e tu tan tan che ci chiedi di prendere il buco? Che cazzo di scena è? Se robe, va bene, no, mi è capitata sta mezza bulgara, mezza cipriota. Ma è veramente... Polina, schiava. Come Polina? La quella di... No, no, no. Ah, micchio. No, no. A se non ci chiamo il cazzo tra poco. Ok. Quindi con lei c'è tipo il ricordo del rapporto sessuale più... Cioè quello che mi ha più segnato, ecco. Hai mai pensato di includere un'altra ragazza in un vostro ipotetico rapporto sessuale? No. No. Assolutamente no. Cosa ti piace di più di Alicia, Letto? Dai, dai. La lingua? La passione. Dai, la passione che cazzo sposta è, Luca? Ma non stiamo qua a giocare. Non ne entro nel dettaglio. No, entriamo, entriamo. Entriamo, entriamo in tutti... Cioè, entriamo in tutti i dettagli. Usa il bonus? Però non ne hai più, e affidati che quelle dopo... Eh, sicuro. Minimo saranno. Ti piace la pizza e io non ho usato il bonus. Una cosa in particolare che dici... Wow, la fa proprio bene. Non lo so. Non lo... Cioè, non la fa. No, bonus. Cosa è troppo private. C'è qualcosa che ti manca un po' nei vostri effetti sessuali? È vero, magari qualcosa che tipo vorresti che facesse, ma non l'ho perso, un po'... Ti pesa, un po' come cosa. No. Luca, ai tempi, quando Alice entrava nelle mie live e voi non stavate ancora insieme, quando io le nominavo il tuo nome, lei si prendeva un po' male, ok? Alludendo al fatto che, comunque, fosse successo qualcosa tra voi. Che cazzo le hai fatto a sta ragazza? Le avevi fatte a questa ragazza? Era innamorata. Spiega meglio. Mi spieghi cosa cazzo hai fatto ad Alice? Ai tempi? Cioè, che cosa è successo tra voi? Perché Alice, quando gli facevo il tuo nome, lei... A me il discorso, no, non mi piace, non lo so, non mi piace come persona. Bonus, già usato. Rameo. Perché in passato ci siamo frequentati, però poi non è andato. E ti chiedo, che cos'è che ti ha fatto cambiare idea? No, per il semplice fatto, io la prima volta che ho visto Alice così, io pensavo ancora alla mia ex. Ma la mia ex è storica, non dei social. Ah, ok, ok. Sì, sì, cioè non è conosciuta sui social. E quando ho poi chiuso con Alice, ho finalmente rivisto questa ex, che avevo proprio il pallino. Dopo che l'ho rivista, proprio ho capito che davvero non me ne fregava più niente. Ok. E poi a settembre, quando ho rivisto Alice... Perché lei... E con lei era sempre scattata... Lei aveva qualcosa che ti dico, lei sto proprio bene, sto proprio bene. Però non puoi tirare una cosa avanti se... Se non è... No, se pensi ad altre cose. Eh? E mi hai pensato, Luca, mi fidanzo con Alice così... Comunque abbiamo le cose da... Cioè... Qua ho scritto, ti dico quello che ho scritto. Mi fidanzo con Alice perché la gente vuole questo e quindi di conseguenza mi tira bene al mio lavoro. No, ma per il semplice fatto che... Cioè... È molto più facile tipo fare tanti video con tante ragazze nel pandino così... Beh, li fai comunque? No. No? No. Prima magari sai, ship con questa, ship con quella, era molto più facile fare le visualizzazioni. Adesso ho switchato... Beh, però le belle coppie tirano un po' di più ormai delle ship. Perché sono poche le coppie vere sul web. Qual è la tua posizione preferita con Alice? Oddio, ce ne sono tante, eh, però se... Una in particolare. Una in particolare... Mi piace tanto lei sopra che mi lascia proprio quello spazietto lì per martellare. Ho capito, ho proprio immaginato la... Scusami. Però, cioè, no, in realtà l'ho immaginato autoreferenziale. Cioè, non con te. Bravo, bellissima risposta. Bellissima risposta, mi è piaciuta veramente tanto. Ho apprezzato, mi spiace, dici, vabbè, il sesso è un momento a Buda, ragazzi, insomma. Hai mai ciucciato le sue dita dei piedi? Ma guarda... Vabbè, basta... No! Cioè, ridono pure le dita, cioè... Vabbè, ma ci sta, eh, cioè, non è una roba... No, a me il piede di una donna mi piace. Ma sì. Ammetto che, secondo me, i piedi della donna, se sono belli, danno un punto in più. Anche secondo me, non d'accordo. Cioè, senza renderli una roba fondamentale, però sono una cosa bella. È un plus. Bene, Luca, con te abbiamo finito. Ah! Poteva andare peggio? È andata... Potevo farti domande peggiori, dici? Mamma mia, infatti... È andata bene, eh? Sono contento, sì. È andata bene, eh? Sono contento, sì. È andata bene, eh? Allora, stai qua un attimo. Alice, vieni con un attimo, vieni. No, 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 no! Chat! Dai, facciamo tre domande bonus della chat. Hai mai fatto anale con lei? No. Ma mi fa ridere che... No! Ma sì, ma... Non lo so. E vabbè, cosa abbiamo riso, non si capirà neanche. Hai mai fatto anale con la dice? No. Beh, magari avete provato, magari. Sono cose private! Ok, a posto, a posto. Aspetta. Ma perché banalmente si è pensato magari alla scena in cui Rayleigh cercava di fare così, letteralmente sì, l'abbiamo provato, capito? Quindi, cioè, ti... Ti manda... Ah! Ho letto un nome che non avevo letto! Porca vacca, mi era proprio sfuggito! Ma facciamolo! Parliamo di ragazze bionde. C'è una ragazza che entrava molto spesso nelle mie live, nominata Martina Dell'Anna. Sì. Ricordi? Sì, la conosco. C'è mai stato qualcosa di intimo tra voi? Sì. Ok. Bene. A posto. Lollo, cambio inquadratura, è il momento di fare domande ad Alice. Ok. Andiamo. Parliamo di lavoro. Molto spesso ti vediamo collaborare con Lisa Lucchetta. Sbaglio? Ah, vero. Le vuoi bene? Tanto. Pensi di stare spesso con lei solo perché funzionate come duo? Non facciamo praticamente mai video insieme, quindi no. A proposito di duo, in realtà sarebbe un trio. Ok. Perché c'è anche Gaia Garavaglia. Era un trio. Quindi adesso vi siete sciolte? No. Ti faccio questa domanda. Vai. È un buon rapporto con Gaia? Sì. In un certo periodo Gaia pareva un po' esclusa dal trio, no? C'eravate un po' tu Alice, un po' tu e Lisa e Gaia era un po' fuori da questo cerchio. Era perché funzionavate magari di più tu e Lisa rispetto che anche con Gaia? No, perché vedevo 24 ore Lisa e Gaia non la vedevo praticamente mai. Io e Lisa eravamo in Stardust, Gaia no. Alice, c'è stato un momento in cui io ho avuto dei brutti rapporti con Stardust, dove avevo appunto chiesto di poter invitare ospiti come te, come Gaia, come Lisa nelle mie live e mi era stato vietato. A me è stato detto, non puoi farlo. Ti era dispiaciuto? Tanto. Alice, sei mai stata gelosa di qualche ragazza in particolare della casa per via di Luca? No. Parliamo di Lisa Lucchetta. Sì. Ok. Lisa Lucchetta sappiamo, dai social, insomma, da quello che vediamo, che lei ha un bellissimo rapporto con Luca. Sì. Ok. Come ce l'ha con me. Sì, 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 ma parliamo del rapporto con Luca. Abbiamo visto molti video dove sono insieme, che sono andati anche in vacanze insieme. Siamo andati. Vabbè, però c'erano le foto di lui e lei insieme, piccioncini, eccetera. Ti è mai capitato anche solo una volta nella tua vita di essere stata un po' gelosa di Lisa? Sì. Tipo? Cosa vuol dire tipo? Quando? Quando si esagera. Quindi Lisa è esagerato? No, non lei. La relazione ce l'ho con Luca, non ce l'ho con Lisa. No, non esagerato. Qualcuno esagera, ragazzi. O esagera signor Stardust, o esagera Lisa o Luca, voglio dire. Nel senso che secondo me, io sono una che tiene molto le cose divise. Cosa? Le cose? Cosa? No, non so come spiegarlo. Ma che cazzo discorso? Sono... Non sono mai stata gelosa per motivi seri. Però ogni tanto ti sei infastidita per qualcosa. Sì, infastidita. E ne hai parlato con Lisa? Sì. Sempre? No. Oltre a Lisa, sei gelosa di qualche amica femmina di Luca? Devi farmi le più specifiche, ti potrei dire di no. Penso, se c'è, ti sarà venuto in mente un nome di qualcuna che un po' sei gelosa. No, no. Ti darebbe fastidio se Luca andasse a un evento e chiacchierasse con una ragazza con cui sai di per certo che ha avuto anche magari non solo un rapporto sessuale, ma un qualcosa comunque. No. Veramente? Mi fido. Vabbè, non ti dà fastidio? Ma ci parlo anch'io. Veramente? Sì. Anzi, mi piace molto di più parlare con... Ma cos'è, vi parlate di come... No, perché so di averlo io adesso, quindi non sono in gelosita. So che mi ama, quindi non sono gelosa. Cioè, se si parla di fastidio, no. Non te la spettavi. Una visione molto particolare. Ok. Usi FaceApp alle tue foto? No. Non ce l'ho neanche scaricata, puoi controllarla. Alice, c'è un tuo video sponsor su Instagram, dove sei struccata. Sì. Ok, e ti devono truccare, presente di che video parlo? Sì. Ci rimanevi male se le persone ti giudicavano negativamente per come eri la struccata? No, perché so di non essere così la struccata, perché tutte le persone... E non sono così, perché la fotocamera è rimasta in talmente... Non so, in una posizione brutta che... Giuro, no. Facciamo così, ti rispondo alla tua. No. Non so di non essere così. La macchina dice che è una gran cazzata. Ma anche perché se nel momento in cui tu mi dici, tanto so che non sono così, vuol dire che comunque ti dà fastidio. Allora, facciamo così. Sono infastidita perché loro non sanno come io sono veramente la struccata. E sei bella la struccata? Fai rispondere lui, dopo glielo chiedo. Ok, chiedo io. Qual è la tua visione del tradimento? Voce, quello mentale, quello fisico. Ok, c'è uno di questi che perdoneresti mai a Luca? No. Neanche un tradimento fisico? No. Cioè, se Luca venisse una sera e la tatticcia se guarda... No. Lo perdonerei? Ah, ok, ok. No, perché... Ma perché? Parliamo di un altro ragazzo. Sì. Jody. Sì. Conosci? Sì. Domanda importante? Sto ancora vivendo per prima. Domanda importante, riprenditi, pensavo a qualcosa di brutto. Aspettate. Sinceramente, pensi che ci sarebbe stato potuto essere qualcosa tra voi? No. Amo! Pensi che Luca sia l'uomo della tua vita? Sì. Alice, hai mai detto ti amo qualcuno oltre a Luca? Sì. Ma non era come con lui. Ma lo amavi? Era un amore da bambino. Molto diverso. Tu quanto è Nemo? 20. 2003? Sì. Matteo Robert, sai chi è? Sì. Empatico? Sì. Sei messo la tratta fisicamente da lui? No. Sono troppo innamorata di Luca, non vedo altri uomini. Ah, perché tu l'hai conosciuto quando già stavi con lui? No, cioè dal vivo sì, quando già stavo con lui, ma sui social lo conoscevo prima, ci seguivamo già da prima noi. Attenzione! Perché mi seguivate già da prima? C'eravamo visti su TikTok. E come mai è partito il follow ricambiato? Lui mi seguiva e l'ho ricambiato. Vabbè, chissà perché l'hai ricambiato. No, no, anche tanti altri influencer, noi ne avevamo influencer. Vabbè, ma ti ho appena risposto, quindi... Quindi secondo te non è un figo? Sì, molto. Però non è il tuo tipo? No, è il mio tipo. Però sono innamorata e... Ho capito, io dico, nella tua vita ti è mai capitato di essere attratta prima e di stare con lui? No. Alice, ti piace fare sesso con Luca? Tanto. Da quando siete andati a convivere? Fate più sesso o meno? Meno. Fate sesso più di una volta al giorno? Anzi, scusate, più di una volta ogni due giorni? Sì. Minchia, Luca, martelli duro. Aspetta, scusami, perché adesso... Facciamola. Fate sesso più di una volta al giorno? Sì. Sì, occhio, che fa parte anche adesso la chiavata, perché se non l'avete ancora fatto oggi, ancora due sono da sestare nel giro delle prossime due ore. Ma figa, ma veramente, più di una volta, ma come vivete? Scusate, prima? Cioè, prima vi vedevate, ciao, come stai? Pam, dentro. Cioè, letteralmente. Ma com'è possibile? Ma quanto chiamate, ragazzi? Luca, ma... Scusate. Prossima domanda, importante. Sei tu a prendere iniziativa? Capita, una volta. 50-50. Non lo so. Quindi una alla volta al giorno? Un miglia. Ok, c'è sempre se siano due. Anzi, li facciamo così. No, no. Fate sesso più di due volte al giorno? Ma ragazzi, ma cosa cazzo fate voi nelle vostre giornate? Ma chiamate e basta? No, non ho risposto. No, ho capito, parte la risata generale e Luca pensa... È capitato. Immagina che cosa. È capitato, non sempre. No, ok, micchia. No, non tutti i giorni. Si è capitato, ok. No, non tutti i giorni. Ieri? Chi si ricorda? Ma chi si ricorda? Luca si ricorda? E come? Mi sa che si ricorda anche le posizioni fatte. No, non lo so. Con lui hai vissuto le tue migliori esperienze sessuali? Me lo auguro, perché una miglia di tre al giorno, figa. Se non te ne dà una top. Sì. Ti piacerebbe fare una cosa a tre con un'altra ragazza? No. Un futuro? No. Mai? No. Magari quando diventa monotona la vostra sessualità? No. Se sto con lui, se sono fidanzata, no. Cosa ti piace di più di Luca, ha letto? La sintonia che c'è tra di noi. Cioè, io mi voglio segare, Alice. Cioè, mi puoi fare queste domande, queste risposte? Dico qualcosa, non lo so. Questo, questo. Parliamo di una cosa molto importante. Di recente è uscito un articolo che parla di figli. Ti faccio questa domanda. Attenzione qua, perché è importante. Io sto già la tremando. Se Luca durante un rapporto sessuale ti dicesse facciamolo, facciamo un figlio adesso, è possibile che tu caschi in questa cosa e comunque possa succedere quella cosa che ti faccia magari rimanere incinta? Ora no. Mi è successo quello che ti abbia detto? Sì. Minchia, cioè... Mi vorrei... Mi ha detto no. Probabilmente non voglio avere un figlio. Possiamo rifarla la domanda? È mai successo che siete andati vicini a quella possibilità di fare un figlio? Cosa vuol dire? Specifica. Oh, Cristo Dio. Vengo dentro o no? Non posso dire in altro modo. Sì. Andati vicini non vuol dire che è successo. Sì. E tu hai detto no? Ah, perché tanto anche se lo fai se hai accorto accettito e poi hai piacere a piacere e non cazzo. Quindi letteralmente l'istituzione è Luca non vede da avere un figlio tu gli dici no, sono troppo piccola. Questo è un po' Abbiamo concordato che dovrebbero passare almeno tre anni. Oh, vent'anni raga. Cioè... Ma è vero, tu sei 90 anni, tu hai 24 ormai. Lui ha quattro anni in più di me. Non ho 24. Qual è la tua posizione preferita a letto? Bonus. Quali sono le tue posizioni preferite a letto? Dai, no, 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 non vale. Vale, è una cosa già... Chat, vale. No, per me non vale. Vale. Se in chat scrivono vale, vale. No, per me non vale. No. È il bonus, scusami. Vabbè, vabbè, ho dato il bonus. Bene, dai, cazzo. Sei stata con più di tre ragazzi in vita tua? No. Ho baciato sei ragazzi nella mia vita e sono stata con tre. Fine. Così sono tranquilla. Per quello ti dico che è impossibile. Più santa di così, cioè, non me possono fare. Alice, ti è mai capitato di... Vabbè, non voglio essere volgare, però... Fare un qualcosa durante il rapporto sessuale per fare in modo che finisca, perché magari non c'hai voglia, non ti sta piacendo, c'è qualcosa che non va o... Sì. E Luca lo sa? Sì. Quindi non ti è mai capitato di farlo apposta? No, glielo dico... Cioè, di farlo senza poi dirglielo? No, no, glielo dico. Dico, guarda, basta. Ok, va bene, a posto. Tocca a Luca, vieni qua. Prima domanda. Cosa ti ha fatto innamorare di me? Eh, non lo so. Ha simpatia. Fisicamente mi piace un sacco e simpaticissima, proprio, c'è, in senso, giù. Pensi che in futuro sarai la mamma dei miei figli? Sì. Se tu non mi conoscessi, apprezzeresti Luca Campolunghi come creator? Sì. Ora sì. Allora, ho dovuto specificare. Sì, no, prima quando portavi le tipe sul pannino, no. Non volevo neanche apparire sui tuoi social, quindi c'è... Bene, bene. Allora, poi... Secondo te staremo insieme tutta la vita? E cavolo, ne so. Secondo te, è una previsione. Sì. Mi hai mai tradito? No. Neanche col pensiero. Bella questa risposta. Neanche col pensiero mi è piaciuta. Il nostro primo rapporto, ti è piaciuto? No. Lo sapevo già, ma la causa è positiva. Eh, esatto, la causa è positiva. Eh... Eh... Ah... Ma non rimane così? Sì, Luca, cazzo le Campolunghi! Vabbè, basta. Eh, va bene. Beh, dai, scambiatemi. Partiamo con... Semplice. Pensi che io sia intelligente? Eh, sì. Eh, no, perché dipende dall'argomento, sì. Sì, sì, sì. Passa alla seconda. Dimmi quando. Ti piace fisicamente, quindi solo il fisico. Da impazzire. Prima di me, hai mai pensato di aver trovato la donna della tua vita? No. Hai mai dubitato dei tuoi sentimenti nei miei confronti? Mai. Non credo. Nei mesi in cui ci siamo frequentati, ma non era ufficiale, per te era una cosa seria? No. Anche per te era una cosa seria? No, no. Hai detto, pensi di aver iniziato ad amarmi prima dell'ufficialità? Prima dell'ufficialità? Sì. Prima di settembre, di quando ci siamo messi insieme? Prima di ottobre? Sì. Sì. Ti piace veramente convivere con me? Da morire. Tantissimo. Se io volessi, faresti veramente un figlio con me adesso? Sì. Quindi sono io il problema. Sì, è mio. Ok. Ti piace o struccata? Tantissimo. Tanto che ti dico di star struccata, quindi... La preferisco struccata. Glielo dico sempre. Per me è la versione più bella di Alice quando apre gli occhi la mattina. Mi hai mai tradito? Mai. La faccio meglio perché ho paura che... La rifaccio meglio. Da quando ci siamo messi insieme a ottobre mi hai mai tradito? Mai. Ma perché mi vien da ridere? Va. Basta. Eh ma ormai mi vien da... Cioè se me lo chiedi mi vien da ridere. Cioè... La devo rifare, eh? Vai, richiedimelo. Da quando stiamo insieme mi hai mai tradito? Mai. L'hai detto adesso tanto però o... L'hai detto tanto però o è vero? No, no. E io ero tranquilla, quindi... Ragazzi, io vi ringrazio. Noi ci vediamo domenica. Grazie a Luca e grazie ad Alice. Grazie a te, Simo. Sì. Dov'è vero, eh? Oddio, ho paura di qualche clip che possa uscire perché poi commentano con quello che vogliono. Sempre un piacere stare qui con Tegre. Mi sento solo sulle panche. Eh... Tutto sembra più distante. Eh... Sono lasciato come Anders. Uh... Vedo il mondo così grande. Che...